Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 rallentamenti per il pristino urgente della pavimentazione tra Montecatini e Pistoia. In A12 a Pisa Nord, chiuso per lavori l'allacciamento tra la 11 con provenienza Lucca e la 12. In Fipilì in direzione Mare, rallentamenti per lavori tra Ponte d'Era Est, Ponte d'Era Ovest e Ponsacco. Spostandoci sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta e tra Monte, Rigioni e Badesse in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!